ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video un orario un po insolito e vabbè scusatemi mi perdonerete ma quando ci sono delle cose da raccontare mi piace farlo anche ad orari dove magari non aspettate effettivamente un mio video e dato che il calcio mercato è caldo e ovviamente sul calcio mercato ci saranno sempre nuove informazioni beh perché no pubblicare i video anche ad orari un po più improponibili e iniziamo subito perché ho una carrellata dei notizie che andremo a commentare tutti insieme intanto miretti per quello che si è detto oggi dovrebbe rimanere alla juventus ragazzi io qua sono veramente stupito perché secondo me anzi più che secondo me il mio pensiero era chiaro pensavo che la juventus andasse un po più decisa su profili come fagioli o rovella che sono due classi 2001 che hanno già fatto almeno un anno almeno un anno di presenza serie a o serie b a seconda del profilo invece miretti non ha ancora giocato effettivamente una stagione in serie a se non queste ultime partite con la juve ma a quanto pare massimiliano allegri ha visto qualcosa nel ragazzo e vorrebbe trattenerlo in rosa anche l'anno prossimo miretti un 2003 per farci un attimo un'idea su quello che è il prossimo anno andrebbe avere 20 anni no nella prossima stagione andrà a spegnere 20 candeline quindi comunque non è un ragazzino di 17 16 18 anni 20 anni è già comunque un'età più che rispettabile nel mondo del calcio soprattutto nel calcio moderno e questa per quanto mi riguarda sarebbe un'ottima notizia perché mai mi sarei immaginato un juventus che poteva andare a trattenere il rosa miretti prima di fargli fare un giro all'interno di altre società e giocarsi una stagione da altre parti su fagioli e rovella la juventus appunto farà delle valutazioni aggiungo c'è anche filippo ranocchia che quest'anno ha giocato in serie b dovrebbe fare un anno in serie a invece probabilmente ranocchia su miretti invece sono veramente stupito perché non me l'aspettavo poi da un lato penso questa è la strada giusta nel senso in questo momento avevi arthur che era un giocatore all'interno della rosa viventus che quando giocava dava poco e niente di apporto alla manovra veramente in tutto l'anno ci sono state poche partite in cui abbiamo avuto la sensazione che arthur potesse darci qualcosa in più e tante volte quando è accaduto era per la presenza contemporanea di arthur e locatelli che permetteva appunto a locatelli di sganciarsi più avanti non tanto per arthur quanto più la possibilità di avere comunque due giocatori con la gestione del pallone più elevata rispetto a tanti altri componenti del centrocampo e pensare che arthur che ha uno stipendio importante che ha un valore di ingaggio importante all'interno del bilancio della juventus possa essere ceduto per lasciare spazio a un giocatore del 2003 mi fa assolutamente piacere quindi questa potrebbe essere una mossa bellissima inaspettata per quanto mi riguarda sarei molto contento poi però dall'altra parte ci sono un paio di cattive notizie una cattiva notizia alexandro non sarebbe intenzionato a lasciare la juventus in questa sessione di mercato in questa stagione perché ha un ultimo anno di contratto che ovviamente è basato su circa 6 milioni di euro più bonus e quindi potrebbe rimanere a torino un altro anno io vi ho sempre detto nella mia testa alexandro uno dei primi che saluterà la juve c'è da dire che dall'altra parte se il ragazzo non si vuole muovere vuole percepire altri 6 milioni di euro circa all'anno per un anno per poi scegliersi la squadra che preferisce l'anno prossimo ci puoi fare davvero ben poco ovviamente la juventus potrebbe decidere in comune accordo con l'allenatore massimiliano allegri di andare ad investire su un profilo titolare per la fascia sinistra e lasciare alexandro fuori dalle gerarchie per valorizzare appunto questo nuovo innesto questo fa parte comunque del gioco come alexandro dice io non non voglio andarmi nella juve voglio rimanere qui dall'altra parte c'è un allenatore che prende le decisioni e ovviamente un allenatore che lavora con la società per creare la rosa più affine più più congrua alle richieste alle esigenze e quindi andare a investire su un profilo differente dall'altra parte vi dico luca pellegrini e moise ken secondo tutte le chiacchiere che sono fatte fronte pogba fronte delito ovviamente appartengono tutte la stessa agenzia che una volta veniva curata tra gli altri da minoraiola pellegrini e ken avrebbero chiesto di andarsene della juventus per avere un po più di spazio disposizione qualche possibilità in più per giocare più minuti quindi la juventus si ritroverebbe con il solo alexandro come terrestino sinistro dopo la partenza dei pellegrini e attenzione perché a quanto pare la juventus si starebbe informando per acquistare destiny doge giocatore che quest'anno fatto benissimo a udine giocatore italiano nato e cresciuto a verona che era dell'ellas ma in teoria l'udinese dovrebbe avere riscattato dopo un prestito con obbligo di riscatto giocatore molto interessante classe 2002 anche qua un'età media molto bassa che andrebbe in perfetta controtendenza rispetto ai vari pogba e di maria trattative che continuano ad andare avanti che potrebbero chiudersi da un momento all'altro e quindi da una parte l'esperienza internazionale di due che hanno già scritto la storia del calcio come la conosciamo e dall'altra parte miretti e destiny doge giocatori sicuramente diversi che hanno ancora tutto da dimostrare ma che potrebbero aiutare un sacco da juventus soprattutto nel percorso di crescita e svecchiamento di profili non più idonei appunto come alexandro quindi questo sarebbe veramente una chiusura del cerchio perfetta qualcuno potrebbe essere un po titubante su doge dicendo ma no ma come già pronto per la juve non lo so forse un po presto vi rispondo con dujan vlaovic perché dujan vlaovic vlaovic che cosa fa una stagione titolare no in serie a una stagione comparsa in serie a in cui fa poche presenze l'anno dopo quindi la passata stagione fa molto bene la terza stagione quella dell'esplosione quella che appena concluso tra fiorentina juventus udagi fa la stessa cosa l'anno scorso avere una qualche apparizione sporadica quest'anno a udine una buona stagione questo è il tipico profilo di calciatore che se non prendi in questo momento dopo due stagioni in serie a di cui una veramente molto buona prezzo va su rischia di lievitare e non solo non puoi più permetterlo tu juventus ma probabilmente questo profilo di giocatori non rimane in italia a meno che tu non vada ovviamente a pagarlo tanto di più come abbiamo fatto magari con vlaovic andando a sborsare a gennaio una cifra molto elevata per il rischio di scatterare un'asta a giugno e quindi non potercelo più permettere direzione premier perché la sappiamo sono giocatori appetibili sono giocatori che piacciono ai club della premier e secondo me udagi è uno di quei profili lì e quindi se dobbiamo fare un'offerta per un terzino sinistro quest'anno che possa essere il titolare per far rimanere alexandro in panchina dato che non vuole andarsene con il rischio anche di giocarsi il mondiale tra le altre cose quindi io ci penserei bene alexandro non vorrei mai che poi nel brasile potesse giocare che ne so renan lodi o giocatori di questo tipo quindi occhio però io andrei a fare un investimento di questo tipo perché il ragazzo quest'anno ha fatto veramente bene e ha fatto vedere di avere delle caratteristiche molto molto interessanti e che noi in quella zona di campo quindi basso a sinistra non vediamo davvero da quando alexandro era ancora un calciatore di alto livello quindi stiamo andando un po indietro con il tempo e ci sono altri due nomi che sono venuti fuori insistentemente nelle ultime ore uno è calidu culibali del napoli giocatore che conosciamo direi decisamente bene qui in italia anche noi alla juventus e sergei milinko vissavic dato che a quanto pare la juventus potrebbe essere comunque interessata a fare un doppio colpo a centrocampo pogba milinko vissavic ora mi sembra un po presto preparare queste cose io tra l'altro francamente faccio un po fatica a credere a questi due nomi credo che sia più idoneo appunto il profilo un profilo come destiny udogi rimaniamo in attesa di vedere se davvero si può sbloccare anche una trattativa fronte napoli e lazio per questi due calciatori che sicuramente a mani bassissime rimangono tra i migliori atleti presenti all'interno della nostra serie a fatemi sapere se vi piace il profilo di udogi se siete tristi dalla permanenza di alexandro o dalla potenziale partenza di ken e di pellegrini e se secondo voi culibali e milinko vissavic possono essere operazioni di mercato possibili ma soprattutto la notizia che non ci aspettavamo fabio miretti potrebbe rimanere all'interno della rosa della juve questa secondo me è una grande vittoria per il movimento bianconero che da anni sta cercando di fare questa cosa qua preparare alcuni giocatori per il grande salto in serie a e cercare di limare questi continui passaggi all'interno di leghe minori o squadre minori questo sarebbe veramente il primo grande passo in avanti della juventus under 23 della gestione che da anni la juventus sta cercando di imporre all'interno della società sarai veramente contentissimo di vedere miretti in prima squadra l'anno prossimo contentissimo